E ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, via Ascoli ritorna di nuovo rotta, che bello si scrive, Gorizia 9.4, questa è una via, la prima via pedonale che è stata fatta circa 12 anni fa, è stata rifatta nuova, qua c'era una marea di negozi, è stata fatta pedonale e alla fine sono morti tutti, adesso stanno ricrescendo un po', però ritorna di nuovo chiusa, ma come? Si fa una strada e si ritorna di nuovo a romperla, non so io, in quell'epoca perché non si poteva cambiare i tubi, le cose che dovevano essere? No, oggi la devono rifare di nuovo, ritirare via l'asfalto, chissà quando che ritornerà come che era prima, col porfido e tutto e guardate qua, qua c'è il nostro ufficio, ci sarà forse per poco, non si sa, adesso perché non so, c'è arrivato l'affitto e qualcosa del genere, c'era questo scambio e alla fine non c'è, comunque ecco qua dentro, qua dentro dovrebbe essere il nostro ufficio, adesso non si sa, siamo ancora in alto male, ci hanno chiesto anche di fare un'assicurazione per un milione di Euro, non so perché, vabbè comunque alla fine guardate qua, una strada che è stata rifatta 12 anni fa, la prima strada pedonale e oggi ritorna di nuovo rotta come in quell'epoca, io non so, in quella volta due anni è rimasta chiusa questa strada e adesso vedremo Piazza Vittoria quanto tempo, qua c'è la sinagoga e qua a Gorizia non si sa perché, si deve rifare tutto, 10 volte si rompe, si chiude, si rompe, si chiude, non si riesce a fare una cosa unica, ecco guardate qua, adesso vedremo quando che metteranno il porfido in questa via, bene, ci vediamo al prossimo giro in Piazza Vittoria cari amici!